Bentornati a Volevo fa l'attore. Oggi parliamo di un attore simbolicamente eccellente, proprio per come interprete i ruoli, ma non soltanto, per le qualità artistiche che possiede. Perché lui non possiede solamente la qualità artistica del saper parlare bene, saper parlare bene fluidamente in inglese, ma lo sa fare in più lingue, compreso l'italiano. Stiamo parlando di Christopher Waltz. Christopher Waltz ha vinto due premi Oscar, uno entrambi come miglior attore non protagonista, ma entrambi diretti da Quentin Tarantino. Uno per il ruolo del dottor Schulz in Django Unchained, è lì una performance eccezionale, lui tedesco di nascita e di natale, come può far presagire il cognome, riesce a interpretare il ruolo in una maniera eccelsa, soprattutto perché non soltanto c'è il binomio tra inglese e tedesco, soprattutto per il carisma che mette all'interno dell'interpretazione. Ed è questa forse la caratteristica più importante di Christopher Waltz. Se devo vedere un attore moderno capace di fare tante cose, escludendo Leonardo DiCaprio, come abbiamo potuto vedere nel suo rapporto per come lui riesce a lavorare, possiamo perfettamente dire che Christopher Waltz è uno di quegli attori capace di fare tutto. Poi è veramente cangiante nel suo modo di fare i ruoli, anche fisicamente, dalla barba lunga del professor Schulz, ce lo ritroviamo praticamente senza un peletto sul viso, a interpretare un ruolo eccezionale, all'altezza forse dei più grandi, in Bastardi Senza Gloria. Allora, quando si guarda Bastardi Senza Gloria, e questi sono i due ruoli fondamentali su cui mi soffermerò parlando di Waltz, scusate, mi rifacevo al dottor Schulz, questi due ruoli sono davvero molto interessanti per un motivo ben preciso. Perché? Perché? Perché agisce bene, non soltanto segue le dinamiche perfettamente del personaggio, ma riesce ad amplificare quelli che sono i suoi concetti, non portandoli all'esasperazione, ma per lo più riuscendo a interagire con lui, in una maniera che definirei precisa, molto precisa. Parlavamo dell'uso del bilinguismo in Django Unchained, beh, in Django Unchained, scusate questo naso un po' chiuso. Ma in Bastardi Senza Gloria, Waltz riesce a interpretare il proprio ruolo basandosi non solo la sua interpretazione sull'inglese e sul tedesco, ma anche sull'italiano e anche sul francese. Riesce a interpretare questo ruolo in una maniera eccellente e credo che sia il suo ruolo migliore che abbia potuto interpretare nel corso della sua carriera, ha lavorato anche in altre pellicole, ovviamente escludendo quelle di Quentin Tarantino, ma quelle della tv, quelle viste dalla maggior parte della gente, soprattutto in tv, perché soprattutto su TV8 credo siano stati emanati più volte questi due film di Quentin Tarantino, lui riesce a interpretare questo ruolo in una maniera eccelsa e l'eccellenza si dimostra proprio nel saper comunicare, non soltanto attraverso la propria lingua natale, che sarebbe il tedesco nel suo caso, ma in altre tre lingue, che lui riesce perfettamente a delineare. Poi la fluidità con cui lui parla italiano in quella scena, poi ci sono questi gesti che interisce Tarantino negli altri personaggi che non comunicano in italiano, tra cui Brad Pitt, che per dire buongiorno dice buongiorno, e lui invece mi dispiace perché parla italiano meglio di me e ne sono consapevole di questa cosa e quindi molto probabilmente mi andrò a rinchiudere dentro l'Accademia della Crusca e non farò più nient'altro. Christopher Schultz, come dicevamo, Waltz, non Schultz, mamma mia scambio sempre questo nome, è sicuramente uno degli attori moderni più interessanti del panorama artistico hollywoodiano. Io spero di vederlo sempre più spesso in pellicole di questo genere, soprattutto i ruoli thriller dove la psicologia del personaggio migliora, si evolve durante la pellicola stessa, riescono a far esaltare le sue caratteristiche. Quali sono le caratteristiche principali di Waltz? Sono essenzialmente una parlata fluida, un'evoluzione come dicevamo eccezionale del personaggio durante il corso della pellicola e soprattutto la dimestichezza, il dosaggio che lui riesce a dare alle determinate emozioni che va a interpretare. Lui riesce a dosare la propria emozione riuscendo comunque a lavorare in una maniera eccellente. Ho ripetuto più volte questo termine, eccellente, ma perché è un'eccellenza di questo mestiere? E perché riesce a farlo nella maniera migliore possibile. Quello che vi consiglio io, se non volete vedere Bastardi Senza Gloria o Django Unchained, che comunque è un peccato capitale se voi non li andate a vedere, vi consiglio la clip dove lui parla italiano di Bastardi Senza Gloria. Ragazzi, eccezionale, davvero eccezionale, parla italiano di molto meglio di quello di tutti voi e di me, mi ci metto io in prima fila. Quindi questo è quello che penso di Christopher Schultz, di Christopher Waltz. Ma perché vogliamo Schultz?